Inferno, canto nono. Abbiamo visto come alla fine del canto ottavo, che era il canto di Filippo Argenti, il dannato iracondo nell'Ostige, Dante e Virgilio si sono trovati di fronte alle mura della città di Dite, ma hanno avuto la porta sbarrata dai diavoli che hanno impedito il passaggio ai due poeti e Virgilio ha detto a Dante vedrai che adesso sta arrivando un messo celeste che ci farà aprire le porte e ci farà continuare, proseguire il nostro viaggio voluto da Dio. Il canto nono è il canto, lo leggiamo in alto, Begna Medusa, è il canto delle tre furie che si trovano in cima alle mura della città che chiamano Medusa e dopo di che è il canto del messo celeste che apre le porte a Dante e Virgilio ed è il canto del cerchio successivo, il sesto cerchio, il cerchio degli eretici, di coloro che non credettero nell'immortalità dell'anima. Ma vediamo nello specifico come i versi di Dante ci raccontano questa parte del racconto che è piuttosto spaventosa, questa è la parte in cui Dante descrive veramente queste presenze demoniache impressionanti di cui lui ha molta paura. Quindi come vediamo Dante ha dei dubbi, gli chiede se ci sono stati altri viaggi dal limbo verso il fondo dell'inferno, appaiono le tre furie che invocano Medusa, poi il messo celeste che permette il passaggio e l'ingresso nella città di Dite. Andiamo a vedere i versi, qualche passaggio importante. Eccolo qui, l'inizio del testo. quel color che viltà di fuor mi pinse, la paura, il colore rosso, il pallore che la mia viltà mi colorò sul viso, veggendo il duca mia tornare in volta, piuttosto dentro il suo novo ristrinse. Quindi indusse Virgilio a trattenere i suoi dubbi. A un certo punto si fermò, Virgilio, tendendo l'orecchio per ascoltare. E Virgilio dirà, eppure a noi converrà vincere la punga, cioè noi dovremo vincere la battaglia, a meno che, e poi si fermano, tal ne sofferse. Però lui dice, tal Dio si offrì, cioè si è offerto di aiutarci, o come vorrei che arrivasse subito. Io vidi come Dante si accorge, come Virgilio stesse per dire qualcosa che poi non prosegue a dire. Quindi io vidi ben come eri coperselo, cominciare con l'altro che poi venne. Ma non di me paura il suo dir di n, no? Ma non di meno le sue parole crearono in me paura. Perché io davo a quella, diciamo, mancata frase un significato forse peggiore di quello che avrebbe voluto dare lui, Virgilio. E allora Dante si rivolge a Virgilio e gli, diciamo, espone un dubbio. È mai successo che un'anima del limbo da cui viene Virgilio, la cui unica pena è quella di avere la speranza cionca, cioè di non avere speranza di salvezza, sia scesa nel fondo del basso inferno, e Virgilio gli dice di rado incontra che di noi faccia il cammino per il quale io vado. È pur vero che io scesi già un'altra volta. Quindi Virgilio era già stato mandato al fondo dell'inferno, evocato da quella crudele maga eritone che richiamava le anime nei loro corpi. Tanto è vero che anche nei canti successivi vedremo come Virgilio racconterà il fatto di essere già stato in quell'inferno, ecco, perché Virgilio già conosce quei luoghi. Di poco era di me la carne nuda che la mi fece entrare dentro a quel muro, cioè mi fece questa eritone, mi fece entrare nelle mura di dite per trarre uno spirito fuori dalla giudecca, che come vedremo sarà l'ultima zona del nono cerchio, dell'ultimo cerchio, dove ci sono i traditori dei benefattori. Quello è il più basso loco, il più oscuro, diciamo, il più lontano dal cielo che tutto gira. Ben sol camminna. Quindi Virgilio dice a Dante guarda ci sono già stato all'inferno, quindi stai tranquillo. Questa palude circonda le mura di questa città dolente, dove non possiamo entrare senza ira, cioè senza forzare la volontà dei demoni. Proviamo un attimo a rivedere l'immagine che avevamo già visto, diciamo, di questo imbuto infernale per cui dopo il quinto cerchio degli iracondi e gli acidiosi, Dante e Virgilio stanno per entrare nel sesto cerchio, ma per entrare nel cerchio successivo devono attraversare queste mura della città di dite e riusciranno a farlo solo alla fine di questo nono canto. E quindi proseguendo il discorso, Dante dice, disse altro ma non l'ho a mente, perché l'occhio era stato attirato dalla cima delle mura in cui lui vede queste tre furie. Guarda, disse Virgilio, vedi le feroci erinni, le furie, le erinni greche che sono le furie romane. Meggera a sinistra, poi a destra a letto, Tesifone è al centro, Tesifon è nel mezzo, è tacque. Queste tre furie si battevano il petto con l'unghie, si squarciavano da sole, urlavano in maniera spaventosa, terrificante. Questa è una descrizione di demoni terrificanti. Addirittura le tre furie diranno, vengna Medusa, cioè invocano l'arrivo della Medusa, che era questa divinità antica che aveva il potere di immobilizzare chiunque la guardasse. Volgiti dietro, allora dice Virgilio, una volta che queste tre furie invocano l'arrivo di Medusa, subito Virgilio si fa avanti per proteggere il suo amico, perché ormai è un'amicizia questa. Così disse il maestro, volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornare mai suso. Cioè se tu guardassi la gorgone, la Medusa, non potresti mai tornare su. E il maestro addirittura mette le sue mani davanti a quelle di Dante per impedirgli di guardare la Medusa. E poi c'è questa terzina famosa in cui Dante invita il lettore a riflettere su questi versi. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che sasconde sotto il velame degli versi strani. Cioè cercate di capire l'insegnamento che si nasconde sotto i miei versi misteriosi. A quel punto si sente questo fracasso, questo suono pieno di spazio, spavento, è l'arrivo del messo celeste, il quale passando fa scappare tutti i diavoli come le rane scappano davanti alla biscia. Similitudine. Come le rane innanzi all'inimica biscia per l'acqua si dileguan tutte, fino a che alla terra, fino a che tutte quante queste rane si ammucchiano sulla terraferma, così io vidi più di mille anime fuggire dinanzi, anche le anime fuggono di fronte all'arrivo del messo celeste, da questo che passava lo stige con le piante, con le piante dei piedi asciutti. Muovendo la mano sinistra rimuoveva l'aria nebbiosa di quella palude e poi parea pieni di disdegno. Venne alla porta e con una verghetta, con un piccolo bastoncino, aprì la porta, semplicemente, che non vebbe alcun ritegno. Poi questo messo, la cosa interessante è che non ci parla proprio con Dante e Virgilio, non li considera, li ignora completamente, si rivolge soltanto ai demoni per rimproverarli e qui abbiamo il punto estremo di questo conflitto che dicevamo tra il bene e il male. Questo è il tema di questi due canti, l'ottavo e il nono, cioè il messo celeste, simbolo del bene, si rivolge ai diavoli che sono simbolo del male e gli dice O cacciati del ciel, gente di spetta, onde sta oltracotanza in voi s'alletta? Cioè perché tutta questa tracotanza? Perché vi opponete? Tanto lo sapete che perdete, no? Questo gli vuole dire. Perché recalcitrate a quella voglia cui non può del fin mai essere mozzo? Cioè non ci si può opporre al destino. Non vi ricordate Cerbero che ci ha provato? Che giovane le fata dar di cozzo? Bellissimo questo verso, cioè a che serve cozzare, cioè opporsi al fato? Cerbero vostro, se vi ricordate bene, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo, cioè è stato punito per quella tracotanza. Poi si rivolse per la strada lourda, poi questo angelo dopo aver aperto la porta, i demoni sono scappati tutti e se ne va tranquillamente, senza nemmeno filarsi Dante e Virgilio. Dentro l'intrammo senza alcuna guerra, quindi tranquillamente, e io che ero desideroso a quel punto, dopo tanto tempo, di vedere cosa ci fosse dentro queste mura, veggio a ogni grande campagna piena di duolo e di tormento rio. E qui c'è la descrizione di questo mare di sepolcri, che lui paragona al paesaggio di Arles in Francia, Oppola, queste zone dove lui aveva visto dei grandi cimiteri pieni di tombe, quindi lui dice fanno i sepolcri tutti il loco varo, cioè riempiono tutto il paesaggio e i sepolcri, così facevano quivi d'ogni parte, salvo che il modo vero era più amaro. Quindi Dante vede un mare di sepolcri scoperchiati con il fuoco dentro, perché tra gli avelli fiamme erano sparte, quindi la particolarità di questi dannati, ne vedremo meglio anche nel prossimo canto, gli eretici, erano condannati dentro queste tombe scoperchiate, però con le fiamme che bruciavano, che ferro più non chiede verun'arte. Quindi tutti coperti erano aperti e uscivano lamenti così miseri che sembravano proprio di anime dannate, no? Quindi i dannati erano in questi avelli, in queste tombe infuocate. Ora, gli eretici erano coloro che non credevano nell'immortalità dell'anima. In realtà Dante parla di eresiarchi, poi lo vedremo, ed dellì a me, infatti Dante dice a Virgilio, maestro, quai sono quelle genti che seppellite dentro quell'arca e si fanno sentire con i sospiri dolenti? Ed è lì a me, qui sono gli eresiarchi. Gli eresiarchi sono i capi delle sette di eretici, con i loro seguaci, appunto, i loro adepti di ogni setta. E molto più che non credi sono le tombe, sono molto più cariche di quello che tu non creda. Anche perché poi gli dirà, lo vedremo nel prossimo canto, che in questi sepolcri erano condannati anche cardinali, addirittura un papa, che poi leggeremo nel canto undicesimo. Simile qui con simile è sepolto e i monumenti sono più o meno calde. Quindi le tombe sono più o meno calde a seconda della gravità della colpa commessa. Allora questi eretici, quelli che non credevano nell'immortalità dell'anima, vengono chiamati anche epicurei perché seguivano la dottrina di Epicuro che non credeva nella vita oltre alla morte. E loro, per contrappasso, sono costretti a giacere in una tomba rovente. E poi Calamandestra si fu volto, poi che girammo verso destra, quindi Dante e Virgilio entrano nella città, vedono questo mare di tombe infuocate e girano verso destra passando nel percorso che si trova tra le mura e questi sepolcri. Quindi passammo tra i martiri e gli alti spaldi. Buon ascolto. Quel color che viltà di fuor mi pinse, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo novo ristrinse. Attento si fermò come onca ascolta, che l'occhio non potea menare e allunga per l'aere nero e per la nebbia folta. Pur a noi converrà vincer la punga, cominciò el, se non talne sofferse, o quanto tarda a me e c'altri qui giunga. I vidi ben siccome i ricoperse, lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse. Ma non di men paura il suo dir dienne, per chi o traeva la parola tronca, forse a peggior sentenzia che non tenne. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado, che sol per pena ha la speranza cionca? Questa question fecio, e quei di rado incontra, mi rispuose, che di noi faccia il cammino alcun per quale io vado. Vero e caltrafiata qua giù fui, congiurato da quella eriton cruda che richiamava l'ombre ai corpi sui. Di poco era di me la carne nuda, che la mi fece entrar dentro a quel muro per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quello è il più basso loco e il più oscuro, e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so il cammino, però ti fa sicuro. Questa palude che il gran puzzo spira, cigne d'intorno la città dolente, u non potemo entrare o mai sansira. E altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte, che membra femminine avieno e atto, e con idre verdissime eran cinte, serpentelli e ceraste a vie in percrine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine, questa è megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro è a letto, tesifon è nel mezzo, e tacque a tanto. Con lunghie si fendea ciascuna il petto, battiensi a palme gridavansi alto, chi mi strinsi al poeta per sospetto. Vegna Medusa, silfarem di smalto, dicevan tutte riguardando ingiuso, mal non vengiammo in teseo l'assalto. Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse, e non si tenne alle mie mani che con le sue ancor non mi chiudessi. O voi che avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento per cui tremavano a mendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori, che fier la selva e senza alcun rattento li rami schianta, abbatte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e li pastori. Gli occhi mi sciolse e disse Ordrizza il nerbo del viso su per quella schiuma antica per indi ove quel fummo è più acerbo. Come le rane innanzi all'animica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finca la terra ciascuna s'abbica, vidio più di mille anime distrutte fuggir così dinanzi ad un calpasso passava stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso menando la sinistra innanzi spesso e sol di quell'angoscia parea l'asso. Ben m'accorsi che li era da ciel messo e volsimi al maestro e quei fe segno chi stessi queto ed inchinassi ad esso. Ai quanto mi parea pien di disdegno venne alla porta e con una verghetta la perse che non vebbe alcun ritegno. O cacciati del ciel, gente di spetta cominciò elli in sull'orribil soglia ond'esta oltracotanza in voi s'alletta perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo e che più volte va cresciuta doglia che giovane le fata d'ardicozzo cerbero vostro se ben vi ricorda ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda e non femmotto a noi ma fesse imbiante d'omo cui altra cura stringa e morda che quella di colui che li è davante e noi movemmo i piedi in ver la terra sicuri appresso le parole sante. Dentro l'intrammo senza alcuna guerra e io cavea di riguardar disio la condizion che tal fortezza serra com'io fui dentro l'occhio intorno invio e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio. Siccome ad Arli overodano stagna siccome a Pola presso del Carnaro ch'Italia chiude e suoi termini bagna fanno i sepulcri tutti il loco varo così facevano quivi d'ogni parte salvo che il modo vera più amaro che tra gli avelli fiamme erano sparte per le quali erano sì del tutto accesi che ferro più non chiede verun'arte. Tutti li lor coperchi erano sospesi e fuor non scivan sì duri lamenti che ben parean di miseri e d'offesi e io maestro quai son quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir coi sospiri dolenti ed elli a me qui son li eresiar che con lor seguaci d'ogni essetta e molto più che non credi son le tombe carche simile qui con simile è sepolto e i monumenti son più e men caldi e poi calamandestra si fu volto passammo tra i martiri e gli alti spaldi